Buongiorno a tutti. Chi è in politica, la presidentezza debato? Vi potete fare la domanda, ma vi dovete fare la domanda in un minuto. Mi non voglio che vi raccontate la storia di via vivo e poi, in fine, fare la domanda. Favo la domanda in un minuto, perché avevamo molto tempo, e non vi dico a chi vi volete la domanda. E voi potete usare un microfono. Se voi pensate, voi volete fare la domanda, voi potete venire per fare la domanda. E l'Ecto, la Roma, mi volete presente, James, che è il direttore della Consiglantaro di Brasile Esperanto Ligua. Evandro, che è la Presidente del Biel. Fernando Maia, che è il Presidente del Biel. Mi aveva exterlandano di te, che è Cesar Dornelis, che è venire treforalando il Porto Alegro. E carina, che è anche il direttore dell'EASPI. Quindi, la domanda è relativa sempre al tema del Congresso. Esperanto, che è l'esperanto di nuova e colma. E esempio, che è il Dr. Paolo Sardeggio Viana, che ha dato un interesse per esempio. Il gruppo non lerno per libri, studi, l'iteratura nel Vietnami. E se non exista l'esperanto, mi credo che non può fare l'esperanto. Perché, se è un buon libro in Vietnami, questo libro deve essere traduzito in Anglia. Questo è l'unico passo. L'unico passo è che gli uccionisti lo scattano. Se l'unico non è chattano il libro, se l'unico passo non è chattano il libro, se l'unico passo non è chattano il libro, la storia del tuo libro è il mondo morto. La più grande parte del libro che ho venuto nella mia portugala lingua, vieni per il sono. Se l'unico passo è un buon libro in Paquistano, se l'unico passo non è chattano il libro, non è più vero, non è più vero al Vieno, al Brasilo. Comprendebli, sono alcuni escepti di reti traduzioni di tua lingua in Portugala, ma in generale non è traduzione in Anglia. Ma l'esperanto rompa il tuo diablo circo. Perché in Esperanto, l'esperantista è un esempio di Vietnami, m'io, escezzi il libro che è la più buona della cultura, non scrivi il tuo sonore, non scrivi il tuo sonore, non scrivi il tuo sonore, comprens il loro, e traduce il libro all'esperanto. Abbiamo studiato l'esperanto e per questo abbiamo capito di leggere quali i vietnami vietnami chattano non il libro vietnami che i vietnami chattano se vi comprensete la grande differenza questo è un esempio del uso dell'esperanto per acquistare nuove cose e mi impegno a fare domande se vi non faccio domande alla debattanti la debattanti faccio domande a voi quindi è più buono che vivere con questa domanda quindi mi cominciamo faccio la nuova domanda e questo è per Evandro perché è la Presidente dove deve cominciare prendere la più facile task e vi penso quando vi parlo vi penso in tutto vi havas 10-20 minuti se vi può dividere tra 3-3 risponde da 20 minuti o 2-7 minuti due Evandro un'ue mi havas due demandi due demandi al vi vi può rispondere di cui vi vogliono che vi vogliono un'ue e la due parte della domanda è che noi possiamo instigliere i nostri comuni perché noi apprendiamo più cose per l'esperanto, perché noi usiamo l'esperanto per l'apprendere nuove cose. Bene, io ho usato l'esperanto per l'apprendere, per esempio. La mia moglie parlava molto bene con l'anglico, io metto la Francia, e io solo parlo di portogallo e l'esperanto. So, quando noi viaggiavamo, ci aiutano a me in flugiaveni e hoteli, ma quando mi scrivo e contattavo gruppi di esperantisti per conoscere la cultura, la locura cultura, la visione dei luoghi di Tiollando. Per esempio, nel 2012, mi visitavo la Francia, e mi rincontro con il gruppo di Parigi, e durante un giorno, mi parlavo e mi presentavo, la urba, e mi potevo conoscere la urba con altre maniera di vedere la vita delle persone, della popolo, che non è il turismo, il turismo conato, normale, che voi potete visitare la urba. E poi, nel 2003, mi visitavo l'Italia, e anche mi contattavo gruppo di Milano, e il gruppo mi riceveva in la urba, e durante un giorno, mi mangiavano con loro, mi visitavo il giardino di Giovanni Conti, la locura di Milano, e lì costruiva un grande giardino, esperanto giardino, con alcuni afferri di esperanto, tre musa, Romo, e con Giovanni Conti, Milano, mi conosco la vita di Milano. Sed, per esperanto, ecce la unuae, iaroi, existano cantori, filmi, poesiei, romani, novelli, revuoi, teatroi, cabaredi, canzoni, roco, popo, repo, e t.a. in esperanto, ecce la cultura, la cultura in esperanto, che non puoi coni. Sed, anche funzioni, esperanto anche funzioni, che il punto internazioni, etnii, culturui, esempio di questo, ci sono i miei libri traduciti. In teori, ci sono i grandi classiche versi, esempio, mi citi la vera di Tolkien, la maestro delle ringue, che è la Siorra dos Annii, questo è un esempio di classiche versi che voi potete leggere in esperanto. Sed, ci sono i miei libri traduciti, e i perli, vi origini verificati in mal grandi linguevi vi potete leggere per esperanto, che voi non potete leggere per la Portugale, o per la Anglia. Sed, io potete chiedere, quale non leggere la Anglia, per leggere in culturui? Certo, molti libri di molti culturui sono traduciti alla Anglia. Mi rispondo è che la Anglia è molto, molto più facile da l'esperanto, questa è la mia prima lingua. Due, mi sento che l'esperanto è la mia lingua, perché non appartiene alle nostre nazioni. Quindi mi sento l'esperanto, questa è la mia lingua. che è la mia lingua. e la mia lingua è la mia lingua. E' un esempio di viattiname e culturui, che il dottor Paolo Dívis Rodio. bene, mi rispondis la mia lingua domanda. La mia lingua. E' un esempio, che non puoi con l'alliai... e questo è il tema del congresso, l'esperanto per l'alliai con cui non puoi usare l'esperanto. Questo è il punto. e mi chiedo di parlare, io metto un esempio del progetto che faccio io, questo è l'Università di Esperanto. E qui trovo i filmi delle lezioni, che sono instruitei per le sessioni dell'Università di Esperanto. Tutti le lezioni dell'Università di Esperanto sono filmatei e posti mettei sul territorio, senza pagare con la licenza di creare comunale. L'Università di Esperanto parte inspira del modello lanciato dell'Università di MIT nel 2022. L'altro modello, i cursi dell'Università di tutti disponibili sul territorio per le persone in tutti i paesi. L'Università di Esperanto sta anche molti più basi sul modello dell'Università di Berkeley, che è solo completi, solo filmati e solo basi generali, disponibili al pubblico. L'Università di Esperanto basi anche sul principale presentato nell'Esperanto Manifesto di Praga, e, simile, sul principale presentato è la licenza di creare comunale. Nel manifesto lezioni lezioni per le notizie e transnazione educata, pedagogia, efficienza e le lingue diverse. Il cursio dell'Università di Esperanto instruisce per la lingua esperanto, non questi cursi di Esperanto o pre Esperanto, per Esperanto. Ci sono i cursi di Buonvena, se questi cursi sono già studiati in un'Università. E, esempio, i cursi di Historia, Filosofia, Biologia, Chemia, Astronomia, Psicologia, e anche più, matematica, musica... E, anche, i paradossi, i cursi più lingue e i cursi più esperanto non sono accettabili in un'Università. Puoi scendere il progetto in internet per l'adressa www.universitato.info. Quindi, l'Università di Esperanto è studiata per l'esperanto, non per l'esperanto. Il cursio è generale, basi di cursi, non sono cinquei cursi. Nenio cursi deve essere bisogno di apprendere l'apprendimento di altri cursi. Bene, alcuni cursi, precedenti e similii non accettabili l'Università di Esperanto. Inoltre, ci sono certi che i nostri progetti. Inoltre, per questo esempio, è il progetto, che è il progetto. Il progetto presenta molti grandi prelegi per alcuni temi, 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 per alcuni temi. Qualcuni fallowano i forti contemporary, per alcuni temi, per alcuni temi tipi di insegnamento, tra l' entersperanto, essenziale, per alcuni temi, per alcuni temi risposti giù che staını ottivano. in altre lingue, ad esempio in latina. Questo flanco dell'Università di Esperanto può essere considerato nell'estolato. Questo è un esempio che mi trovo per usare Esperanto per quel punto delle altre icone. Grazie, Evandro, e mi ricordo che ti ha dato molti informazioni a noi. Comprendebbero noi non possiamo parlare se non graviamo, perché ci sono filmi e vi posti in Youtube, e voi potete consultare perché io ho disperato l'Università che è una cosa molto interessante e con molte cose che potete leggere. Ora, voi potete fare una domanda alle loro, alle sette perché Evandro e io rispondi. Questo è quello che è nel debattato di Presidente. Mi vedo che io le vedi la mano... Ah, sì, Anna. Il microfono è con Alex. Quindi, mi domando a James. Mi voglio domandare quali pensate il tema del congresso e anche relato alle escolti. Mi non sono escolti, quindi mi sento l'audito di lui, che è stato in questo e mi pensavo che potete leggere il tuo interrelato. Quindi, mi voglio che vi che questa escolta parola più prima. Grazie. Buon... 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 Buon biterno a tutti. Grazie per la domanda e per la invito alla debattura. mi credo che esperanto è così ricco così vasto come un uomo con tutto il materiale per esperanto e è così vasto che non possiamo lungo per esperanto e non dimenticare che Zamehoff crea di comunicare non per la lingua internazionale comunicato per la vita per generali affari e mi anche per quello che mi interessi molto per la comunità e per questo prodotto materiale per i miei altri facoli e per la mia professione per esempio e non ci sono prodotti per i miei professioni per i miei iconi della vita vita per il papel di soldato per quello che ci interessano noi noi vorreggiamo trasformare e noi solo attendiamo i ritorni della comunità e sperando questa vera vivante pratica lingua che mi posso trovare per quale temo informare almeno oft mi haves la pleasure montri in mia laboreio e mi successo stio e il programma in Russia responde la demanda che mi ne trovi per alia voi grazie a l'esperanto mi trovi a risolvere il problema se l'ultimo è stato un taglio per l'ordine per l'ascolto che vi allude mi sono in esperanto mondo e sono da 20 anni e da 20 anni mi conosco alcuni esperantisti interessisti per ascoltare se mi confesso a voi e che mi malmulto lernis per ascoltare ma vado e ne della esperanta ma vado vedo orinde e tu pensi con me di nuovo se mi porto i miei incontri faccia robbia incontri o la speranta ma vado o mi simplici volo consumi gin in esperanto quindi mi pensi che mi malmulto e la famiglia malmulto l'ascolto non mi muovato non mi muovato non mi muovato 2-3 anni quindi c'è un vasto mondo con tantissimi interessi e aspetti che mi vedo rende nel lernis per l'esperanto e c'è un po' ocasi c'è un po' in 2-5 anni c'è un po' ocasi do mi faras mea culpa in la latina che mi anche non mi porto sufficiente con noi alla movato alla comunum dell'esperanto per dell'esperanto se riprivia tutta obiektiva demando estes molti punti simili inter l'adu movato la scolta e la esperanta l'autio che che mi attendo a nuova in Roma con nuova visio per il mondo per la tezza che ho ancora essas messaggi nella scolta movato per il momento che la Roma penso che nella libri che plattano sono vanno al via lingua se vi ritsevo sempera sempera incontri di alia e culturai ti ho ancora esperato prodotti della scolta e in fine la fondanta dell'escolta movato va d'emparo li ricomendi esperanto in sia un nuovo libro che di secreta lingua per scolta di 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 esperanto le recomendo esti forte quitta della dua e dono se Per se vi è exterlande, di bovas il turnigio per la tua lingua, dove, infine, è più facile di costruire l'acqua. Bene, se di do mio alvoco è che noi avevamo un livello di prodotti e materiali senza costi, cioè l'internet è senza costa medio, praticamente, perché non bisogna attenzare il donistone per il mio materiale, e vero, per i vostri iconi e disconeghi, sti. Sti. Grazie a tutti per la rispondazione. Anche non ho visto per i ascoltatori, comprensibile ho visto che vi è attiva, non ho visto che ci sono alcuni esperantisti in alcuni paesi che usano. Scolto per l'antolico è stato fondato nel 1908, e, comprensibile, in Europa ci sono molteplici pratiche. Ci sono traduzioni in lingua e ci sono stati comuni. Le scolto per l'associazione è quasi un settore, perché questa è la più nuova scolta e associazione è ancora a questo istante. Buongiorno. Non vi potete, ah, volentieri per fare la domanda, vi potete domandare al Fernando? Sì, da César Donnelli. César. è stata fondata per l'esperanza per l'esperanza, perché gli vogliono scegliere tutto il mondo, perché questo è un grande relato di tutti i malvoli. César, è più senso. Mi chiede a voi fare chiaro, non vi è capace, non vi è capace, non vi è povo. È più senso. Perchè, perché la temo, pensi a me, che per l'antolico delle iconi, il nostro mondo è necessario per senso, le relato delle sensazioni di tutti i landi. Cioè, come facciamo noi, usiamo l'angla? Do, i brasiliani traduzono l'angla, i germani, i sami. Come possiamo crescere, aprire, in quanto riguarda l'esperanza per l'esperanza, fare, per cambiare, per fortare l'uso di esperanza in l'esperanza per l'esperanza, per fare che se uno sentista comprenne che è stato più facile, rimedio. E questo è il tuo tema, che mi chiede all'obbligare, l'obbligare. Sì, d'accordo. Bene, che a me è che pensi per l'afferdo proponato, per l'attempo proponato del congresso, sperando, sperando di all'IAi con noi. tu vienes al mio capo mia realizzazione o in l'allando. Sì, in Brasile, mi aveva due grandi instanzioni, religiei e filosofi, che in questa maniera appoggiare l'esperanza e utilizzare l'esperanza. Sì, e l'obbligare. ciò leggeo per buona volo. Cioè, mi avevo pensato che non è bene, non è bene, mi avevo un instrumento di speranza in mia loca socia, cioè mi avevo lernante, tra entusiasmo, per speranza, che io ero cattolico. dove mi pensavo che, ebbe, posto nello, mi instigozzi l'in, l'in, comienzo a instigli l'in, giusto per vedere con quina maniera mi può stimoli, o re-stimoli l'inh, l'usato di speranza, l'in, 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 l'innato di speranza, la cattolica media. Cioè, mi pensavo che, è, in relativo a domando, o ne povas, pensi, che maniera ne povas, inclusive, noi, che riuscli speranza, no, instigli l'in, l'in, che, anche, appartenac, in un caso alla essenza mondo in diversi campi e fine, perché il helpo non disversi che sperando mi piaccia che noi che ho muovato avevano grandi defiant per questo senso in quel senso che non devono profite che non mi ha dato azzare di questo io ho alia che hanno collaborato senza in un senso senza campi, perché il helpo non giusto con critica di questo questo è stato in questo senso che vi con alia in esempio in Brasile di noi che provano fare questo questo è stato in un'esercizio Questo spazio, che non mi chiamo Esperanto, che avevo più mal di più di 20.000 anni. Ordinevo che io e persone mettere dubbi per grammatica, abbondano le rispondono. Se che ogni domanda più aline e culturale, la rispondono, la rispondono, la rispondono, ma molto. Mi domanda, Alvi, se non abbiamo, di noi esperantisti, discutono per grammatica, stas baro, o stas, che mi puoi dire, buona, perché mi attingo che speranto questo, speranto di all'Ia e con. Buona. Mi devas menciare anche a Cesar, di nuovo, perché lì molte fa rispondi, lì molte rispondi alle domande, alle domande per Facebook, e noi vediamo che questo è un problema. O noi, se noi avevamo rigido controllo per la grammatica, questo è molto buono, la mia penso. Ma all'Ia flanche, noi vediamo i un nulli, che non formali apprezzano esperanto, in apprezzano o costruzano, lì apprezzano tutte soli per interventi, e noi cominciano a scrivere e usare, e tutto è raro. Questo è complicato, perché tutto non è un problema, se l'Ia e Nullo scrive è raro, quando dice che vanno esperto esperanto, e corretto lì. mi pensi che ti ho parlato, perché ti ho parlato per il tuo tema, per il qualche giorno, ci vi memoria, Cesar. Perché se noi semplici laços, la erraro in le frasi, all'Ia e Nullo, all'Ia e Nullo, all'Ia e Nova e Lernanto, può pensare che questo è la giusta forma. Do, mi pensi che noi dovremmo essere corretto, perché la più grave è raro. Ti ho sempre dovremmo intervenire, perché le persone, ci sono persone che, ah, mi cominciamo a insegnare a tre tanti, e mi piace l'angolo con esperanto in la stessa frase, e noi comuniciamo, ma tutto è raro, e in questo caso mi dovremmo intervenire, e corretto, mi pensi. Certo, ci sono alcuni casi, come le persone, ad esempio, come scrivo in la Portugale, in Facebook, e mi scrivo molto, mi ofte faccio molte errori, perché mi tipo molto rapido, e comprende che le persone si sono molto bene in la Portugale, ma questo è un tipo error. Quindi, i esperantisti devono, io metto, acceptare, tolerare le errori. E un esempio, se mi scrivo a voi, e voi faccio errori, e mi conosco, mi pensi che voi buona parola vi errori, perché vi scrivo troppo rapido. e mi racconti curiosamente. e mi sento informe, e mi instigo la Roma, e non mi rispondi, non mi rispondi. e mi deciso di scrivere messaggio, tutta senza accusativo. perché vi viene molti Roma, per correttare me. e non mi rispondi. e nel filo della messaggio, mi avverti, il tuo messaggio mi intende, non mi usi l'accusativo. mi non mi usi l'accusativo. perché vi leggo, perché vi critico, perché vi correttamente, almeno se molti Roma è correttamente, la loro vita, 10, 20, li provano, o di non provano, chiar fuori, quando cominciano a domandare per loro, a cui è la situazione in Ucraina? E in la domanda, io erratto, o loro Roma che rispondono, faremo erratto, e vi vedi 30 Roma discutenti, se c'è l'accusativo, o non è l'accusativo, se la c'è fatemmo, è l'Ucraina, non è l'accusativo. Quindi, che direi, Buda, mi devi marchare per la voce della mezza, mi devi pensare, non puoi dare un specifico, un regolo per te. Depende della occasione. che stai a domandare? C'è un Plei e Cari sento? Mi passiamo un esempio, uno è un discurato, un discurato, c'è l'Ucraina o un'Ucraina? C'è l'accusativo, c'è l'accusativo, per la milita, c'è l'accusativo, per la fine. Esperanto centrismo. E o Leandro. E o russiano faz isso, e outras pessoas em seu lado fazem isso, e elas falam na língua angla. Mas elas falam muito bom, porque elas falam na língua angla. E as pessoas falam na língua angla. E as pessoas falam na língua angla. E as pessoas falam na língua, e as pessoas falam na língua angla. E as pessoas falam na língua angla. Mas, as palavras são as coisas. Isso é o ponto, quando elas falam na língua angla é muita incompreensão. Porque quando elas escrevem? Bene, vi potete spettare la revisione del vostro testo, e la nostra parola, la lingua buona, ma la storia, qual è l'internazio della lingua? C'è la latina, c'è la Francia, non c'è la anglia, per le politiche, per le storie, ma... Vi potete chiarire la più buona la storia dell'anglia? E, infatti, mi trovo articoli in anglia lingua, ma non potete comprare di questo anglio, ma non è vero anglio. C'è la faccia della... è la faccia di fare, per esempio, matematica, studia di matematica, dove si esprì linguistico, dove devi scrivere in anglia lingua, anche un anglio lingua, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. ma non è vero, ma non è vero, non è vero, non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. è molto importante pubblicare in florentia, e questo è più buono se vi pubblicare in lingua, perché altre persone di altri paesi leggono, ma non è troppo controllo, mi penso. Io lavoravo in il Donneio, ho reviso texti in portugale, e ho visto che se io voglio pubblicare articoli in lingua, e non controllo tutto quanto riguarda l'articolo, la grammatica è buona, ma deve pubblicare, e per questo ci sono i fissaggi in lingua. James? Io mi raccomando, io mi raccomando. Io lavoravo in l'instituto di scienza, il nostro laboratorio per il Synchrotron, e i fisici che comprensano, deve pubblicare, e comprensano politiche in lingua. e io mi raccomando, e io mi raccomando tutto quello che funziona in lingua, perché la grave revisione di questo pacco fisico, per esempio, mi raccomando articoli, che non arrivano a un livello, 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 a un livello. quindi, che è in particolare, ciò che sono la natura, ciò che è in particolare, ciò che fa, ciò che è in particolare, sono e anglie, e le ricominciano, che non ha avuto un articolo rifusato, se non arriva a un livello. E le ricominciano, la anglia aveva la passiva in quel che fa o usa la passiva in voce nure in tio caso ne farò quel via nazia lingua tiel che on i am povas malcovri anche uno l'acchialo de tio che l'articolo in internazia e grave revuio 60% ven l'anglia che la anglia ha fatto la lingua c'è l'acchialo c'è l'acchialo filtro della lingua minur volo saldo ne io tre rapido rilato a te afferro vedo che interessa afferro che i uain etna lingua che si propone a queste in internazia a sin altrudas che in internazia giusti fronte c'è un problema questo è un problema per laminato per il dialettico vedo i povas vedo che tia lingua che non è esplavita che rilato ma facili o che ma regolazione l'acchialo 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 favore l'asperante l'acchialo mi pensas che iuri mensis iun rilato al broken english o es scutima fulsa fulsa angla cer la homoi devas ili ne estas naziai denascai parolantoi sed ili devas pubblici in la angla c'è detalo ili regas bone la angla unui charla angla est estremal facila due char ili ne chattas che multai studentoi studassi in facon sed ili estas devigatai lerni la angla ca c'è l'gemis mensis anca o clod pihon farese studion pritio che in internazio congresso la cefai prelegantoi ne estas la cefai cientistoi estas la cientistoi qui pli bone regas la angla eble est siu brazilano al italo qui havas tre interesse informon cordoni sed se line bone regas la angla line havas attento e i articoli scienziati. Certo, l'esperanto è molto facile per esempio, uno che studia matematico è molto facile per l'esperanto per l'occhezza dell'esperanto. E usando la lingua abbiamo uno avuto degli articoli degli versi che la comunità che la esperantista può usare. Io avevo questo progetto ma non ho parlato 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 l'esperanto la pragmatica di Luca che è molto interessante e giusto per questo tema. Leandro, il microfono è per voi. Buongiorno a tutti ma non ho parlato ma non ho parlato di altre lingue per l'esperanto inter io nulla ma non ho parlato 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 del progetto ma non ho parlato 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 ma anche un progetto e anche ci mostrano che non possiamo fare questo per l'esperanza e questo è bello, in questo caso, un esempio di un'università e questo è il più importante per fare questo progetto. La pola è inoltre crea una pagina di Facebook per instruire la pola per l'esperanza. Io non ho scelto il progetto dell'origine, ma è molto interessato e non ho scelto quello della pola per l'esperanza. Bene, se noi abbiamo aiutato i bravi per conoscere l'inizio, è sicuramente bello e bello offiziale di questo progetto, e, se potremmo partecipare con l'università, siamo davvero felici, confelici per questo. Bene? Mi giusto mi ricordo che in tutti i UCOI, i universali congressi, c'è il corso per la nazionale lingua. E uno dei plani del portale Lerno.net è instruire altre lingue. e anche. Mi è chiaro se c'è stato per l'esperanza o no. Cosa vuole domandare? Anna, hai una nuova domanda? Il microfono. Perché abbiamo filmato e capito la zona. non ho scelto. Sì. Sì. Mi città anche la scienza-revoa. Io ho scelto un articolo per le scienze. Esempi. Rari. Esempi. Rari. De coniectata. Sexodimorfismo. E la fauna suprapaleozoica. Essi. Cienti articoli. Cosa faccia di cienti? Essi. Esempi. Esempi. Revo. Che vi povesti. Cosa faccia di cienti articoli? Sì. Sì. Non, pardon. Il telescopio della regola di Wendell. Non è? Mi e' riposare tanto per le. Cioè, mi senti. In i rai di rete. Mi senti in i tanti aiutai dell'ambiente. La tua iniziatura di Wendell. e presento un libretto per cui mi insegnava la Vietnama, non è facile, mi interessa, perché mi tra l'abbiamo la libretta. E anche il suo plan è per questo, l'internazionale gruppo, infatti, e sorgono per la gruppa e con l'internazionale studenti per insegnare la Vietnama lingua. Quindi, è vero, noi parliamo, ciò cominciamo per la scienza e la tecnica e la lingua e la lingua. Quindi, mi penso che è evidente che Esperanto può sperare l'apprendimento delle altre cose. E dal comienzo, quando noi studiamo la lingua, noi apprendiamo la lingua in struttura, quindi è tutto questo. Poi, qui rischiamo la cultura con un, che ha detto a alcuni miei colleghi, noi facciamo tutto per viaggi, per legato, per sempli interrelativi con i miei internazionali amici, e, in realtà, è un problema in un tempo. La grande dignità è senza fare con noi. Questo è un grande problema, in realtà. Uno, il proprio progetto in cui mi penso, è quello che il tuo portal, universitato.info, crea un spazio, perché noi traduciamo resumi di articoli. In realtà, la lingua è la nostra lingua per l'internazionale comunicato inter-insistenzistui. Questo è un fatto, noi non possiamo fare questo, e noi solo dovremmo pensare cosa possiamo leggere di questo, e anche quello che possiamo aiutare per l'esperanza di questa internazionale comunale. Quindi, come la traduzione, James, i nostri prodotti sono conosciuti, noi dovremmo preparare un resumo, in inglese, per il nostro lavoro. Se noi esperantisti anche facciamo un resumo in esperanza, per il nostro lavoro, noi possiamo andare e conservare un resumo, e questo è il nostro passo per il nostro lavoro di alcune delle icone per l'esperanza. Bene. Alex Cesario? Noi siamo in Stato Congresso, Stato Congresso, e quando parliamo per il nostro Stato Congresso, noi stiamo memorando per i nostri cari, e memorando per il Gioberto Ledon, e il Similicenco Ledon. E parlando per i nostri iconi, tecniche di iconi, Gioberto Ledon, e molti leggi, e memorando per i nostri cari, tecniche di ero. E ci parliamo che noi dovremmo usare per l'esperanza, per l'altro tecniche di ero, facce di iconi, e il nostro lavoro è molto semplice, parliamo per aviare, per costruire le pupo, e diversi interessi di ero. Da questi esempi, ebbene, deve essere capace di ero, semmo, e anche buona fredda, mentre si, il paro che molti fai per il nostro lavoro. Mi memoria che parte apprende di rinconti giù in trez rius, e mi parte apprende di un corso di cina lingua, 10 minuti di 20 minuti e ho parlato la parola di mandarin, questa è la lingua più parlata del mondo. Bene, abbiamo solo 20 minuti, non è più tempo per le domande, ma lascio un tempo per i debattatori che vogliono fare alcuni concluzioni. Bene, voglio chiedere la parola, perché voglio chiedere Karina e chiedere la parola per un corso grave che facciamo in polandolo. Non so se tutti conoscono le studi interlinguistiche di Pozzano, o se stanno con la parola? Bene, se stanno con la parola, mi chiedo perché vi attento a Karina e facciamo un corso post-diplomio, non è, Karina? Post-diplomio. Diplomio, bene. Bene, ma anche se stiamo in polandolo, il più grande numero di partecipanti viene dal Brasile, non è? Sì, da una gruppo è da SEP, Brasile. Bene, parola io mette, perché è il più alto esempio che avevamo per l'estudio per l'esperanza in l'università media. Per l'estudio è un corso post-diplomio interlinguistico, che è un corso interlinguistico che studiate non solo l'esperanza, ma soprattutto l'esperanza in l'esperanza. Mi parto prena stiom cursom da anche al Beio, che pagas la viaggio biletto, che appogas min, che è il membro di Beio, e le lezioni sono tutti in Esperanto, e sono tre mal facili lezioni, tre facili lezioni, per linguistico, per literatura, per cultura di Esperanto, e in questo semestre abbiamo avuto l'esperanza, che mi ricordano. Mi ricordano, Leandro, l'obietto del nuovo semestre. Leandro è ancora parte di questo corso. E questo è unico in mondo, perché è un corso offiziale dell'Università di Pozzano. Quindi, in un tempo, mi penso che il successo è un corso con altri magistrati in Europa, perché tutti che finiscono i tre anni studiati, avevano un livello di magistrati in Europa. Nessun, il diploma è offiziale, ma è un sistema di poenti, che sono cento di poenti, che sono la stessa quantità di altri magistrati, i magistrati corsi. E, in questo, veramente, in questo corso, mi conosco molte più, 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 lezioni in esperanto. Mi chattavo al Doni, quando io ho chiesto al Cesar, più, più, l'inirio dell'esperanto in scienza, e, in questo caso, non è un tempo, mi ho anche magistrati in un sofo, più linguistico, e, quindi, mi scrivo un progetto più la struttura delle syllabiche in esperanto, e, in questo caso, mi ho usato principali articoli in anglia. Cioè, questi esperantisti, che scrivono questi articoli, più esperanto, ma solo in anglia. Quindi, loro non traduzono l'articolo in esperanto. Quindi, se non ho usato in anglia, e, in questo caso, mi non posso usare questo articolo in mio progetto. Quindi, mi dirò, che noi, nemmeno, che siamo in scienza, mediei pubblici, e, ne, in rebuo, e, ofiziali, e, in questo caso, non ho accettato, ma, minimamente, in la reta, non ho disponibile articoli in esperanto. E, ciò io, più specifico, per il corso, e, iniziato a dire, specifico, che, 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 e mi chattisci la Wikipedia, che mi rende l'acquanto dei articoli che stanno in Wikipedia, per ioi anni. Quindi, quando mi pensi su questo tema, solo in quanto riguarda la nuova demanda, la nuova demanda, che all'instigli altri temi, in principio, e questo è anche una buona cosa, perché, se vi interessate per l'agricoltura, o per la letteratura, o per ioi, vi potete, per esempio, andare a la Wikipedia, e leggere un'esperanza per ciò che ci interessano a voi. E, dopo, vi apprendete l'esperanza e le altre cose sempre. Sì, mi devo leggere un'esperanza per le lingue in Africa, e, per le lingue, l'articolo in Portugale è molto grande, ma in esperanza ci sono molteplici informi. Quindi, mi chattisci tutti, che se vi interessate per il suo specifico campo, che vi usate l'esperanza anche per le lingue, ciò non è necessario in Wikipedia, ma vi chiedere alle persone in Vietnamo, o in Japonia, in quello che funziona in violenza, e, in questo modo, noi conosciamo più bene le cose delle altre culture, quindi, quando parliamo molto più semplici, ma non solo più di questo. Sì, sì, anche per le cose semplici, le cose semplici, le cose semplici, anche per le cose semplici, anche per le cose semplici, che mi invitano a usare, consumare in Wikipedia, ma anche per i prodotti in Wikipedia. Cioè, noi avevamo fino a circa 200.000 articoli, che ci sono nella posizione di deccezione più vasta, più vasta Wikipedia, ci sono circa 200.000 delle versi e delle lingue, le lingue, per cui non ho avuto l'audito, tanto lungo. E, noi avevamo 200.000 articoli in Esperanza, ciò che, in effetti, ciò che sono più stari, ciò che sono più buoni in Portugale, ciò che sono ancora più, che sono molto molto felice, quindi vi attacceremo il mio contributo attivato. Però la frase del Rector Horder, Esperanza, chovevo una tricolazione, tutto ciò che sia uguale per loro. È molto buono, e precisamente questo è un tema, è un tema, che è un tema di questo congresso. perché è l'utilizzo, l'uso, l'uso, l'uso. Il mio debattito non è solo il comienzo del più facile temo che dovessi esplorare, che dovessi trovare più bene, che dovessi trovare soltanto. Allora, nella pagina di Aspi, mi supposito, in alcuni tanti, sono i film di questo congresso e mi invito a voi a rispettare, perché il tema è un'amplice, 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 perché noi possiamo progressare, propostare soltanto, propostare idee, propostare cose che potessi fare nuove voglioni per noi. Quindi mi ringrazio a voi, tutti, per la partecipazione, per le domande e per le rispondi. e noi abbiamo liberato tempo per andare a mangiare, e noi dovessi consultare i nostri amici, Alex, e mi voglio pensare che noi abbiamo qualche libro marco, che sia una propagandazione per l'esperanza, e che noi usiamo ora. ora, prendo qualche, che dico alle persone che vi trovi, su strada, in restaurazioni, o in questo modo, in SESC, per la propagandazione, per l'esperanza. Cosa è la propagandazione? E la inireio? 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 E la inireio?